Musica Benvenuti su Max Recensioni quest'oggi andiamo a vedere l'entry level il nuovo Redmi 10 il dispositivo bassissimo di gamma perché va comunque a sostituire il Redmi 9 dello scorso anno con forse ecco pochissime armi dalla sua soprattutto diciamo che la novità più grande è questo sensore da 50 megapixel il Samsung S5K JN1 un sensore di nuova generazione e inoltre abbiamo anche l'audio stereo con la parte dell'altoparlante inferiore più la capsula auricolare che fa da secondo speaker abbiamo un Helio G88 Android 11 con MIUI 12.5 di base e una batteria da 5000 mAh NFC tutto quello che potete desiderare ovviamente per quanto riguarda anche la sensoristica completa praticamente di tutto anche il secondo sensore da 8 megapixel grande angolare gli altri due sensori praticamente inutili da 2 megapixel e il frontale da 8 megapixel questo form factor un 6.5 pollici in full HD plus 19.5 noni con refresh di 90 Hz l'Helio G88 che non è altro che una derivazione dell'Helio G85 quindi con il supporto magari alla frequenza di refresh più alta e pochissime altre differenze perché in realtà c'è sempre una solita Mali G52 possibilità di scegliere tra due versioni la versione 4 giga di RAM più 64 giga di storage o 4 più 128 come questa la 4 più 128 ve la consiglio perché con le applicazioni sempre più pesanti ovviamente potrete avere una longevità maggiore un dispositivo che è di dimensioni abbastanza comunque compatte perché parliamo pur sempre di un 6,5 pollici con questa 5000 mAh abbiamo una dimensione di 161 x 75.5 per uno spessore di 8.9 mm che diventano 9.7 con la parte di sporgenza della fotocamera del modulo fotocamera e un 181 grammi di peso in realtà con questa 5000 mAh mi aspettavo qualcosina in più ma davvero sono ben gestiti questi 181 grammi nella parte destra abbiamo il tasto di accensione più la parte del rocker del volume il tasto di accensione integra anche il sensore di impronte digitali che si sblocca in circa meno di un secondo quindi è abbastanza preciso e affidabile in alto abbiamo il sensore infrarossi con anche il jack per le cuffie con anche la possibilità quindi di avere tutta la sensoristica per quanto riguarda il microfono di sistema nella parte sinistra abbiamo lo slot per due nano sim più la micro sd come espansione in basso la type c con il primo microfono e lo speaker nfc come vi dicevo wifi è un dual band e abbiamo il bluetooth 5.1 con anche la possibilità di avere questo 4G plus quindi la sim consente di avere la compatibilità con il 4G plus e la andiamo anche a vedere andiamo a dare un'occhiata alla compatibilità perché vedete qui per esempio con Iliad riesco ad aggregare tre bande con la 4G plus altri dettagli sono appunto la presenza dell'audio stereo e questo schermo è un Gorilla Glass questa risoluzione è una full HD plus forse ecco dal punto di vista dello schermo mi sarei aspettato qualcosina di meglio perché se vedete che lo andiamo a inclinare perde molto per quanto riguarda la qualità e soprattutto la luminosità quindi un IPS LCD ovviamente non il massimo un basso di gamma 450 nits circa di luminosità massima abbiamo un SAR che è di 0,586 watt per chilo sulla testa e 0,978 sul corpo i 128 giga sono emmc 5.1 quindi non veloci sicuramente e il secondo sensore è questo posteriore da 8 megapixel con una grande angolare di circa 120 gradi il terzo e il quarto ovviamente sono inutili questa a 5000 mAh con una ricarica da 18 watt in dotazione viene dato l'alimentatore da 22,5 watt che potrete non sfruttare al meglio perché ovviamente sarà limitato a 18 watt classica confezione manualistica completa c'è anche la cover di protezione del dispositivo che è una cover classica in silicone morbido che protegge bene e in dotazione sempre da qualche tempo ci ha abituato anche Redmi dare una pellicola preapplicata quindi qui troverete si riesce a vedere un pochino qua troverete questa pellicola preapplicata che riesce sicuramente a evitare magari graffi o comunque qualcosina per quanto riguarda la resistenza dello schermo principale Android 11 dice MIUI 12.5 con ultimi aggiornamenti con le patch di sicurezza di ottobre quindi davvero aggiornati 32 giga occupati su 128 MIUI 12.5.9 non ci sono aggiornamenti ovviamente ma il sistema comunque si presenta fluido e non ci sono grossi problemi ovviamente non potete aspettare la massima fluidità di un processore top perché qui parliamo di un Helio G88 che è un 12 nanometri con due core a 78 e il resto sono a 55 a 12 nanometri che ovviamente fa sì che ovviamente il calore si possa comunque percepire nelle sessioni abbastanza pesanti soprattutto nello stress termico 60 o 90 Hz con la possibilità di andare a gestire un po' dinamicamente quello che sono le varie funzionalità del refresh se andiamo a dare un'occhiata agli screen show subito e andiamo a vedere per esempio questo è lo stress termico mi aspettavo un calo superiore di quello che è un po' la gestione termica il calo delle performance è limitato perché riusciamo a tenerle sotto controllo quindi l'88% del tempo in questi 15 minuti di test le prestazioni vengono mantenute quindi davvero interessante quindi una dissipazione che comunque c'è a livello di 3D ovviamente la Mali G52 non può fare dei miracoli e le sue prestazioni soprattutto per quanto riguarda il gaming sono un po' limitate diciamo da medio-basso di gamma ma non poteva che essere così S5KJN1 50 megapixel f1.8 il secondo sensore è un 8 megapixel e anche il frontale è un 8 megapixel questo è il Geekbench 1257 326 il single core e 1234 il multicore a livello di prestazioni della memoria interna 319 mega in lettura e 274 in scrittura prestazioni mediocri da eMMC 5.1 qui vedete anche la gestione di quella che è l'intelligenza artificiale quindi la eBench è molto molto bassa da 11.1 è davvero bassissima vedete anche qui il test AnTuTu delle memorie interne cataloga queste memorie come eMMC 5.1 181.000 punti riesce a totalizzare in questo test purtroppo non riesce a eseguire il test della GPU in OpenCL 3.1 quindi questo un po' ne limita lo score principale è un problema che ho visto con molti mediatic quindi l'AnTuTu non riesce a far girare il test al meglio appena abbiamo ricevuto il dispositivo abbiamo avuto l'aggiornamento da parte del sistema quindi ci sono anche più di un aggiornamento rilasciato da Xiaomi e batteria mostruosa 5000 mAh riuscite senz'altro a fare dei numeri davvero interessanti 47 ore con 13 ore di schermo quindi 47 ore di dispositivo in stand by con test e con uso circa 13 ore di schermo ancora il 43% di batteria davvero un mostro quindi vi consente assolutamente due giorni pienissimi di uso senza nessuna limitazione quindi dal punto di vista dell'utilizzo e della batteria non potrete chiedere di meglio è un dispositivo che vi potrà sicuramente appagare per chi non ha ovviamente esigenze molto molto particolari per prestazioni top piuttosto che fluidità massima in tutte quelle che sono le varie situazioni di utilizzo andiamo a dare un'occhiata all'audio quindi per quanto riguarda la fruizione dei contenuti con l'audio stereo sentite l'audio andiamo ad aprire a tutto schermo andiamo a vedere come si vede questo schermo vedete un pochino nella inclinazione va a perdere un po' di angolo di visione e di luminosità però se utilizzato magari in modalità standard si vede comunque bene vedete se questo è un pochino più potente lo speaker rispetto al capsule auricolare però si comporta bene non ha l'HDR10 e questi 90 Hz ovviamente vengono utilizzati soprattutto per la sua interfaccia lo scorrimento dei menu non ci sono ovviamente vellità di farlo andare a 90 Hz sui giochi o altro perché non riuscirebbe nemmeno a gestirli quindi andiamo a dare un'occhiata anche alla gestione del browser e vediamo come si comporta anche nella navigazione sul sito della Repubblica sito ovviamente desktop andiamo a vedere com'è il pinch questi 90 Hz andiamo a scorrere un po' attendiamo il caricamento della pagina il touch è comunque reattivo quindi anche a livello di gestione non si comporta male e anche il ritorno la home è buono tutte peculiarità della MIUI ci sono NFC presente modalità non disturbare protezione comunque della vista con anche la gestione della ottima per quanto riguarda la luminosità questa è gestita bene forse un pochino cautelativa tende ad abbassarsi un po' l'uminosità quindi ad essere poco visibile magari in condizioni molto buie ma si vede comunque in modo discreto cosa molto molto importante il test dei sensori questo è il primo Xiaomi che integra un sensore fisico di prossimità non il virtuale che abbiamo visto in passato che non permetteva di chiudere la chiamata quando avete il dispositivo magari poggiato sopra il tavolo passo sopra vedete in tutte le condizioni di utilizzo passo sopra e lui va a vedere che c'è comunque la chiusura del sensore che è posizionato qua su in alto quindi è un sensore finalmente fisico va a eliminare tutti quei problemi che gli Xiaomi stanno mostrando anche nel Mi 11 quindi nei top di gamma abbiamo un sensore virtuale qui finalmente sono ritornati i loro passi hanno messo un sensore fisico che sicuramente fa il suo dovere andiamo a sentire una chiamata registrazione già con il dialer google vedete preciso audio stereo quindi anche la gestione a livello dell'audio in chiamata è ottima il 4G plus è presente quindi l'aggregazione delle bande c'è e per il resto ovviamente dispositivo senza fronzoli senza grosse pretese ma che funziona degnamente per tutti quelli che sono gli utilizzi e infatti se andiamo a dare un'occhiata a delle foto scattate possiamo vedere che il risultato delle foto è comunque da dispositivo medio gamma andiamo a vedere un po' di scatti macro 2 megapixel ovviamente non può che essere mediocre video fino a 1080p prova video redmi 10 stabilizzazione non presente ovviamente vedete i tentennamenti zoom ovviamente con la nebbia non può che essere molto molto sfocato però anche la messa a fuoco c'è in realtà è buona ovviamente la stabilizzazione non è il massimo ma non possiamo pretendere più di tanto diamo un'occhiata agli altri scatti macro vedete comunque buono altra prova standard e hdr altro dettaglio macro vedete comunque ha una risoluzione dignitosa scatto serale notturno standard vedete questo è lo scatto standard e questo con la modalità notturna che apre molto di più le ombre vedete la differenza e riesce a recuperare la parte più scura anche questo scatto standard vedete il cielo molto scuro e scatto con modalità ai e hdr vedete recupera molto molto bene all'interno buono quindi un dispositivo che sicuramente anche il lato fotografico si non è che vi da prestazioni da top però per un 200 euro sicuramente ci sta e questo dispositivo è proposto come appunto vi avevo accennato nella fascia tra i 170 e i 200 euro in base alla configurazione 4 più 64 e 4 più 128 tendenzialmente sui 200 euro la versione 128 e sui 170 la versione 64 giga in questo periodo lo trovate ecco un po' scontato la parte posteriore è in plastica ovviamente non poteva che essere in plastica che trattiene molto le ditate in questo colore soprattutto e vedete anche il profilo comunque è buono una buona fattura e anche la parte del frame in plastica anche se è in plastica non sembra così cheap come magari ci si potrebbe aspettare da un dispositivo da 180 a 200 euro cosa non mi piace di questo ovviamente non mi piace moltissimo la luminosità dello schermo e il contrasto che non è così elevato vedete un pochino poco contrastato i colori sono poco vivi e quindi forse da questo punto di vista va un pochino ad essere leggermente sottotono e possiamo certamente andare a dare un'occhiata e mettere un po' migliore gestione della combinazione di colori quindi vivido o intenso o andare a cambiare la temperatura colore però questo pannello IPSLC non fa sicuramente dei colori vividi sicuramente la sua arma migliore per il resto Xiaomi non si smentisce perché è un dispositivo comunque sostanzioso un dispositivo che va a riempire un po' un dispositivo che va a riempire un po' quello che è la fascia del Redmi 9 che era una fascia sotto i 150 euro qui ci avviciniamo ai Redmi Note 10 Note 10S e Note 10 5G sui 200 euro forse qui abbiamo fatto un po' troppo per quanto riguarda la spinta a un sensore da 50 megapixel che per quanto possa essere buono non riesce mai ad eguagliare altri sensori e soprattutto con il software MediaTek non riesce sicuramente ad eguagliare le prestazioni fotografiche di Redmi Note 10 Note 10S e Note 10 5G ma è un dispositivo buttato nella mischia un po' per essere un tappabuchi non è sicuramente una politica che io apprezzo da parte di Xiaomi nel rilasciare tutti questi dispositivi praticamente simili e difficilmente differenziati tra uno e l'altro se non nei piccoli particolari che magari vediamo in ogni singolo test ma è questa la politica che vuole magari Xiaomi e vuole introdurre nel mercato tanti dispositivi molto simili per confondere anche moltissimo la clientela e non permettergli di scegliere un po' in modo oculato oppure di dargli dei dispositivi che cambiano davvero di pochissimo uno dall'altro nella fascia di 200 euro nonché questo aumento di prezzi generalizzato fa sì che a un dispositivo che lo scorso anno trovavate a 150 euro adesso lo trovate 200 con un hardware che non è cambiato praticamente in una virgola se non un aggiornamento magari del sistema operativo con Android 12 a bordo e pochissime altre cose qui schermo 90 hertz che magari può fare un pochino la differenza ma non tantissima audio stereo che sicuramente è una buona cosa e la carica della 5000 mAh con 18 watt una batteria che vi permette una giornata intensa di utilizzo ma due tranquille piene con un utilizzo standard e questa disponibilità quindi la versione 4128 NFC 4G plus completo quindi compatibilità e anche longevità tutto sommato buone per il momento è tutto mi raccomando se il video vi è piaciuto date un like condividete iscrivetevi al canale ho bisogno di voi iscrivetevi anche al mio canale telegram delle offerte smartphone offerte tech iscrivetevi ai canali partner youtube Revotech e Phone Blog Italia iscrivetevi anche al canale degli amici malati di smartphone su telegram ciao da max e alla prossima prova ciao ciao Grazie a tutti.